Ciao a tutti! Oggi vi voglio parlare di una questione che mi chiedete in tantissimi, volete delle risposte? È una questione spinosissima, difficile da trattare, io non sono un'esperta, quindi vi darò delle nozioni generali e poi la mia impressione, che però non ha una soluzione, cioè la cosa giusta non esiste, non c'è. Partiamo subito! Oggi si parla di filati, la grandissima macro categoria dei filati di aguglieria, cioè quelli che noi utilizziamo per lavorare a maglia, uncinetto, comunque dei filati che possono essere lavorati da utenti finali, cioè da noi persone comuni e normali, quindi non da macchinari, non con procedimenti speciali, ma con le nostre mani. Questa grande categoria di filati si divide principalmente in tre sottocategorie, i filati naturali, i filati sintetici e i filati artificiali. Dunque partiamo col dire che io l'affronterò in maniera così, come dire, molto generica, perché poi se dovessi farvi un video nello specifico durerebbe veramente ore e ore, quindi poi se la questione vi interessa, come poi mi avete scritto perché lo sto facendo apposta questo video, perché voi mi avete fatto una marea di domande e tra l'altro è nato anche un dibattito poi fra di voi magari sotto alcuni video e quindi mi sembrava giusto prima di tutto dirvi la mia opinione, ma soprattutto spiegarvi quello che so e fare un attimino di chiarezza. Quindi diciamo che l'attratto ma in maniera generica. Quindi i filati naturali. Filati naturali solitamente si dividono in due sottocategorie a sua volta, quindi quelli di origine animale e quelli di origine vegetale. Di origine animale chiaramente sono tutte le lane date dalle pecore, dai cammelli piuttosto che e quelli sete, origine animale attenzione seta, perché anche se non è il pelo dell'animale ma comunque il filo prodotto viene fatto da un animale, quindi è di origine animale e poi quelle di origine vegetale che possono essere il cotone, il bambù, piuttosto che delle altre, perché adesso poi alla fine noi utilizziamo il cotone e il bambù più più che altro come origine vegetale, però poi dopo ci sono anche altri altri filati, ad esempio ho sentito di ortica, quindi comunque tutto quello che è vegetale. Poi passiamo alla una categoria di mezzo che sono quei filati artificiali. Che cosa intendiamo per filati artificiali? Dei filati che di origine sono anche fibre naturali, ma poi per essere, per diventare filo vero e proprio, quindi un filato da poter lavorare, devono passare dei procedimenti chimici, quindi i filati naturali in toto solitamente si hanno con procedimenti meccanici, lasciando stare ragazze la tintura, quello che arriva dopo è, vi parlo solo del filato, non delle tinture, non di queste cose, quindi da meccanici, perché una volta che io ho la materia prima, meccanicamente faccio il filato. Mentre per quanto riguarda gli artificiali, una volta che ho la materia prima, per arrivare al filato devo avere un procedimento in mezzo, che è un procedimento chimico. Di questa categoria, ad esempio, fanno parte le viscose. La viscosa è di origine, diciamo così, naturale, ma si crea il filato attraverso, per esempio, la soda caustica, quindi comunque ha un procedimento. Stessa cosa può essere per il liocel, ecco che anche quello è dalla polpa dell'albero, che attraverso un procedimento, questa volta non di soda caustica, ma è un procedimento un po' più sostenibile, anzi è un procedimento sostenibile, poi lì dipende dalle varie aziende, però è un procedimento sostenibile, si arriva poi al filato. La terza categoria è quella proprio dei sintetici, che possono essere la poliamide, l'acrilico, il poliessere, ecco, lì sono chimici, quindi solitamente derivano da cosa? Dal petrolio. Che cosa succede a questo punto? A questo punto nasce un grandissimo dibattito, ma una cosa che non avrei mai immaginato sul, è giusto lavorare i filati naturali ed è sbagliatissimo lavorare tutti gli altri? Chi è una via di mezzo tra, sì, mi va bene il filato naturale, ma anche se ha una percentuale magari di altri filati insieme, quindi è un misto tra il naturale e magari il sintetico, o tra il naturale e l'artificiale, e poi c'è chi invece dice io lavoro tutto, non ho un pregiudizio, diciamo, su alcuni tipi di filati. Qui, diciamo così, di prima chito, chi non conosce come sono realmente fatti i filati, può dire, beh, no, io quelli col petrolio non li voglio, quindi solo filati naturali. Sì, ma quali? Perché, attenzione, non è che se la fibra naturale allora è sostenibile. Non è che se la fibra è naturale allora è ecologico. D'altra parte, uno dice, sì, vabbè, ma quella completamente sintetica chiaramente non è né sostenibile né ecologica perché deriva dal petrolio. Ni, ni. C'è invece chi è come me, diciamo così, è nel mezzo perché? Perché non tutto è quello che sembra. quindi nel dettaglio andrò con altri video se vi interessano perché, ripeto, si va nel dettaglio. Io non sono una super esperta, non lo faccio di lavoro, non sono una chimica e quindi parlo per conoscenze ma date da fonti. Quindi non è una conoscenza diretta mia. Però sicuramente ho un'opinione che chiaramente è la mia ed è la mia ed è giusta, tra virgolette, per me. Ci sono persone che potrebbero dire no, io non sono della tua opinione. Ecco, io tra l'altro vi chiedo una cosa. Sotto questo video vi prego di non andare a litigare e a discutere perché se la discussione è in termini così di confronto va benissimo ma se iniziamo a dire no voi siete degli assassini, no voi inquinate il mondo, no allora non va più bene perché vi dico che il filato perfetto purtroppo ad oggi non esiste in commercio. Perché c'è sempre una variabile? Forse solamente che per distribuirlo, per portarlo nelle vostre case si utilizzano, che ne so, dei camion che inquinano. Ok? Quindi è come dire, è sempre una questione di compromesso. Appunto per quello si parla di sostenibilità. Perché proprio nella parola che cos'è più sostenibile? Dipende. Dipende da tantissimi fattori. Dipende anche il filato naturale come viene trattato e all'origine come viene trattato, non dopo, proprio all'origine. Perché ad esempio se si tratta di filati naturali bisogna vedere gli allevamenti. Per quello io sono molto sensibile. Ecco, più che essere sensibile così all'ambiente in generale, io sono molto più sensibile a come vengono trattati gli animali. Quindi, vi faccio appunto, la mia opinione, a me interessa molto di più. Appunto, come vengono trattati gli animali? Perché? Perché, per esempio, noi possiamo avere degli allevamenti intensivi. Possiamo avere delle pratiche di allevamento, ve l'ho detto mille volte, soprattutto sulla lana Merinos, che sono feroci, sono delle cose terrificanti nei confronti degli animali. Cioè, sono sevizie. Capite? Oppure, ad esempio, per la seta. Che tipo di seta è? Perché se uccidono il baco non mi va più bene. E magari sono più favorevole, quindi, a un altro tipo di filato che non sarà magari così pregiato, che non sarà magari del tutto sostenibile alla fonte, ma che alla fine non crea un danno ad un animale, non lo sevizie, non lo uccide, piuttosto che magari ha un processo, diciamo, di lavorazione, magari che è chimico. Poi bisogna vedere, questo processo chimico, quanto inquina? Perché non tutti i processi chimici inquinano tantissimo. Quindi, vedete, è molto, molto difficile. Non si può prendere così in generale e dare una risposta. Infine, da non sottovalutare, cioè, ma questo filato a noi, per che cosa lo stiamo utilizzando? Perché, come diceva mio papà, quando lui era piccolo, c'erano ancora i costumi da bagno in lana. Ad oggi non ci sono più e penso che nessuno di noi, per amore dell'ambiente, si metterebbe un costume da bagno in lana. Quindi, il filato che viene utilizzato per fare i costumi da bagno è un filato totalmente sintetico, che ha delle proprietà che vanno bene per quel certo utilizzo, quel certo tipo di utilizzo. E quindi, non è tutto da sottovalutare. Adesso vi faccio degli esempi con dei filati e poi vediamo se affrontare i vari temi, le varie tipologie di filato, una per una, perché veramente, se no, diventa un video molto dispersivo, fatto magari di luoghi comuni, perché è troppo superficiale. Quindi, se ci addentriamo, magari creiamo dei video ad hoc. Ma lì sta a voi dirmi se la cosa vi interessa oppure no. Ok, partiamo con le mie impressioni. Filati naturali di origine animale. Uno dei filati che mi piace di più, forse molti di voi lo sanno, è il merino. Chiaramente è un filato che ha tantissime qualità, anche qui. Se vi interessa sapere le caratteristiche, le qualità di ogni tipologia di filato, che sia lana, diciamo così, generica, piuttosto che merinos, piuttosto che alpaca. Insomma, vi faccio poi dei video ad hoc. A me questo piace moltissimo. Dipende, però, dipende dagli allevamenti. Quindi dall'origine. Dipende, se non c'è questa dicitura, Mulesing free, che il Mulesing è proprio, vi dicevo, quella pratica che tortura gli animali, no? Se è Mulesing free, allora io lo compro e lo lavoro. Se non dovesse esserci questa dicitura, cerco di vedere la provenienza, per capire, perché solo in certi paesi possono praticare il Mulesing. In altri è vietato dalla legge. Quindi cerco di capire la provenienza. Se la provenienza è chiaramente Australia, no, non lo prendo, cioè non rischio. Ma questa è una mia, una mia decisione. Decisione. Se invece c'è questa dicitura, diciamo che proviene da allevamenti dove non la praticano. E qui sorge subito la prima, diciamo, polemica. Ah, ma quella dicitura la mettono, non vuole dire niente. Ragazze, se ci sono delle certificazioni, se ci sono delle diciture, allora, di alcune case, adesso non voglio parlare di marchi, eh, assolutissimamente, non voglio parlare di marchi. Io ve l'ho preso e non vi ho fatto vedere, almeno spero di non avervi fatto vedere, ma comunque non è che mi devo nascondere, ecco, il marchio. Perché non c'entra in questo video il marchio. Però, diciamo così, se il marchio è un buon marchio, nel senso, che si conosce, ok? Non viene da un paese X, così. Viene da paesi dove le leggi valgono, capisci? Anche qui. Vedete, è troppo ampio questo discorso. Se proviene, cioè, c'è scritto, diciamocelo un po' così, eh, made in Cina. Eh, ho capito, ma la Cina ha regolamentazioni diverse dalle nostre. Se invece il marchio è un marchio europeo in generale, chiaro che allora ha regole molto restrittive, molto diverse. Certe diciture, certe certificazioni, ragazzi, non possono essere messe così per nulla. Poi, se vengono messe per nulla, come sappiamo che è successo ultimamente in grandissimi marchi famosi dell'abbigliamento, eh beh, ma lì, poi dopo ci sono delle conseguenze, eh. Cioè, non è che uno fa, mette un marchio che non è corretto, lo mette così perché lo fa stampare, e poi non ne subisce le conseguenze, no? L'abbiamo visto, eh, cosa è successo, non faccio nomi, ma l'abbiamo visto nella moda, eh, grandi marchi del lusso, che cosa è successo. Quindi, non andiamo a dire, lo mettono, ma poi non è vero. Ripeto, ci addentriamo un'altra volta, ecco, le mie impressioni, rimaniamo qui. Se vedo che ci sono delle caratteristiche, cioè, gli animali non vengono maltrattati, va benissimo. Un'altra, un altro filato che a me piace, chiaramente, è un filato dove, eh, vi leggo la composizione, ok? Qui, chiaramente, è l'anamerinos, e 10%, ad esempio, seta. Ok, se fosse stata seta, tabacco, bollito, cioè, loro prendono i bacchi vivi, e li bolliscono, li mettono nell'acqua bollente, e muoiono così, ragazzi, a me non sta bene. A me non sta bene, eh, anche qui, non sta bene, non per tutto, perché anch'io, ho dei foulard di seta, che mi hanno regalato, piuttosto che derivano, magari, da mia mamma, da mia nonna, non è che io prendo e butto via, perché questo sarebbe ancora peggio, capite? Per me. Questa seta, è una seta, infatti, la vedete, ad esempio, qui, che non è la solita seta, perché? Perché qui, i bacchi, sono sfarfallati, cioè, il bacco, ha fatto il suo naturale decorso, ha mangiucchiato, l'animaletto ha mangiucchiato, il suo bacco, è uscito, è diventata farfalla, ed è andata, e hanno preso, quindi, il bacco, senza l'animaletto, quindi, non l'hanno ucciso, quindi, a me sta benissimo, perché, è una merino, no miulesing, e una seta, no bacchi bolliti, per esempio. però, ah no, passiamo, quindi, al cotone, chiaramente, un cotone, che mi piace tantissimo, qui spara, vabbè, non stiamo parlando, di colorazioni, 100% cotone, morbido, setoso, va benissimo, questo, a me piace molto, come l'hanno fatto, anche qui, bisogna vedere, se è un cotone organico, un cotone riciclato, che è ancora meglio, ma io anche, il 100% cotone, comunque, l'utilizzo, bisogna vedere la tintura, tante cose, mi piace molto, ma ci sono anche, cotoni, ecologici, questo, per esempio, è un 100% cotone, riciclato, quindi, è ancora più ecologico, magari, dell'altro, più sostenibile, certo, ha delle caratteristiche, diverse, però, mi piace molto, poi, magari, andiamo, su una via di mezzo, perché? perché, non tutti, non tutte le lavorazioni, dei filati, e soprattutto, non tutti i filati, come abbiamo detto, servono per far maglioni, quindi, magari, abbiamo bisogno, alcune fibre, no, ma non maglioni, perché alcune fibre, comunque, hanno bisogno, di essere sostenute, ad esempio, i filati, aspettate che, ecco, prendo questo, che si vede benissimo, i filati, che vengono soffiati, mi avvicino, così vedete bene, vedete che, c'è, un tricottino, un tubolare, e, all'interno, ci sono soffiate, le fibre, questo, che cosa significa? Che, è morbidissimo, vaporosissimo, leggerissimo, questo, nella fattispecie, guardate, vi leggo la composizione, è, 65% baby, alpaca, 7% merino, 28% poliamide, dove mai sarà, la poliamide? Nel tricottino, nel tubolare, ragazze, perché, se non tiene, questo filato, come lo lavorate, lo tirate un attimo, si disfa, questa tipologia, e non tutti i filati, di merino, abbiamo detto, questa tipologia, ha certe caratteristiche, queste caratteristiche, prevedono, un 28% di, poliamide, che è esattamente, il tubolare, dove sono, soffiate, le fibre, naturali, ma, mi piace anche, far calzette, e quindi, abbiamo, della lana, per calze, lana, per calze, dove, in quasi, tutte le lane, per calze, c'è, una percentuale, che si attesta, intorno, al 25-30%, di poliamide, questa, nella fattispecie, è, 75%, ve lo metto così, così lo vedete, 75% di lana, superwash, e 25% di poliamide, perché c'è la poliamide, qua dentro, perché se voi, vi fate, delle calze, solo di lana, in brevissimo tempo, vi si fanno, proprio, i buchi, ma, buchi, buchi, eh, perché, con lo sfregamento, è chiaro, che, la lana, mano a mano, che sfrega, non è così, resistente, da rimanere, integra, a parte, che anche qui, vi faccio vedere, che c'è, il mio lezing free, a parte, potete anche far così, non c'è la marca, vabbè, e quindi, se non c'è la poliamide, che tiene, è chiaro, che, si rovinerebbero, subito, ma anche le calze, che comprate, sono fatte così, anche quelle, di cotone, ragazze, non vi è mai capitato, di mettere, delle calze, di cotone, tanto, e poi, voi, vostri figli, vostri mariti, e di trovare, che magari, nel tallone, c'è solo, una retina, trasparente, sottilissima, e, non c'è più, praticamente, il cotone attaccato, ecco, lì, perché il cotone, con lo sfregamento, è andato, ed è rimasta, la, la, diciamo così, l'intelaiatura, no, lo scheletro, quello che regge il filato, perché, se no, altrimenti, al posto di vedere quella rete sottilissima, voi avevate un grossissimo buco, che in alcune calze, poi anche si fa, per l'amor di Dio, però, altro filato, vediamo, aspetta, è passo da, questo, che è più visibile, ok, un filato che io, veramente adoro, a me piacciono da morire, queste paillettes, ma le paillettes, non sono mica naturali, eh, cioè, le paillettes, sono fatte, come diciamo, in pratico, in soldoni, sono fatte di plastica, ragazze, se ci vogliamo mettere le paillette, le paillettes, sono fatte di plastica, infatti, qui nella fattispecie, c'è il 18%, aspettate, perché io mica ci leggo così, è 18% di mohair, 9% poliestere, 25% acrilico, 48% poliammide, e chi più ne ha, più ne metta, e perché, per questo filato, il mohair, da solo, molto difficile trovarlo, solitamente ha un'altra fibra, che lo sostiene, questa fibra, può essere, eh, naturale, seta, ma quale seta? Ecco, e qui la differenza, se è seta, eh, da bacco bollito, io, allora, preferisco, che sia, ad esempio, eh, cotone, piuttosto che viscosa, piuttosto che, veramente, fibra totalmente, eh, acrilica, eh, scusate, non mi viene la parola, sì, sintetica, ecco, fibra sintetica, qui, questo filato, è fatto, in realtà, da due file, adesso, se riesco, ve lo faccio, vedere se trovo, se trovo l'inizio, aspettate, eccolo qui, trovato, no, beh, non è l'inizio, ma, si vede bene lo stesso, quindi, vedete, è fatta, tiriamone fuori un pezzettino, un pezzettino, lo divido così, ve lo faccio vedere, perché se no, eccolo qui, ok, c'è, la parte, il moer, che deve essere sostenuta, come vi ho detto, ma anche, una parte, che è, totalmente, oddio, sintetica, in veniva artificiale, sintetica, perché deve sostenere, anche, le paillettes, che sono, totalmente sintetiche, sono, di plastica, ragazze, e quindi, nella composizione, non c'è solamente, quello di cui è fatto, il filo, ma c'è, chiaramente, anche quello di cui è fatta, la paillette, tanto per dire, stessa cosa, per le lane, che hanno all'interno, le perline, a meno che, non siano perline, di vetro, la vedo, piuttosto dura, poi nel lavaggio, comunque, e poi nella resistenza, ma, appunto, come vi dicevo, lo stesso, perché qua, vediamo la percentuale, è lo stesso, kid mohair, ad esempio, questo è, 50 kid mohair, 18 lana, 32 poliamide, dove sarà mai, la poliamide, nel filo, che sostiene, tutto il resto, perché sono fili, sottilissimi, che, altrimenti, ripeto, potrebbero essere, anche di là, di buonanotte, di seta, ragionamento, di prima, perché poi, qui sotto, lo so, che vi scatenate, chi non la pensa, come me, io vi sto dicendo, la mia, e quindi, essendo così, sottilissimo, ha bisogno, di un sostegno, oppure, lasciamo stare, di cosa è fatto, molte di voi, lo riconosceranno, ma, sto parlando, di un'altra cosa, se abbiamo, all'interno, il lurex, il lurex, non può essere naturale, mai vista, una pecorella, lurex, come d'altronde, non ho mai visto, una pecorella colorata, comunque, poi ci sono, appunto, fibre, come il tensel, questo è 100%, quindi, questo è sostenibile, in tutti i passaggi, ci sono quelli, che sono meno sostenibili, tipo, il poliestere, ma potrebbe essere, anche, una fibra, totalmente, sintetica, ma, ad esempio, riciclata, quindi, questo è un metà, è viscosa, da coltivazioni, sostenibile, 50%, poliestere, riciclato, qual è più sostenibile, adesso, vedete, che ci sono, tante, tante, adesso, non vi voglio stufare, come ci sono, i 100% acrilici, non mi sto fermo, sulla qualità, che sia top quality, che sia l'acrilicone, che fa le scintille, che servono anche questi, perché, vi faccio l'esempio, con un poliammide, 100%, fatevelo voi, un costume da bagno, che non sia, di poliammide, che, quali caratteristiche, hanno, resistenza all'acqua di mare, resistenza alla luce, resistenza ai lavaggi, resistenza, alla luce del sole, se invece, voi utilizzate, un acrilico, a parte, vi sfido, poi uscire dall'acqua, avete mezzo chilo, di costume, se uscite col costume, ma, chiaramente, questo, non è fatto, per farci, i costumi, questo, sì, tutti i vostri costumi, sono più o meno, fatti di questa fibra, anche quelli che comprate, poi, c'è anche l'uso, e vi faccio, l'ultimo esempio, vi faccio, l'ultimo esempio, no, vi voglio parlare, scusate, prima dell'uso, però cambolesco, questo, questo video, ecco, vi voglio parlare, per esempio, fatemi girare, se no succede, questo, peletto, morbidissimo, non lo potete avere, e qui ve lo dico, perché ho interpellato, non la marca, che fa, cioè, sì, ok, l'ho chiesto anche a loro, ma non ve lo sto dicendo, per questo, ho interpellato, chi, nel, nella moda, fa, utilizza, i filati, cioè, quindi, si tratta, di aziende, ok, che utilizzano, dei filati, io, per fare, dei maglioni, ad esempio, ecco, io ho chiesto, c'è una persona, che ho conosciuto, che lavora, appunto, nei tessuti, sceglie i tessuti, ecco, diciamo così, e mi dice, questo tipo di pelo, non lo puoi avere, non puoi averlo, una cosa simile, la puoi avere, ma detto, con le piume, anche lì, le piume sono naturali, sì, dipende, quindi, ma, comunque, anche se fosse più, ma non avresti questa resa, avresti una resa, comunque, diversa, non avresti, non potresti farci, il maglione intero, ecco, in uno di questi, spero che si veda, non si vede, sperlucicare, al vicino, vediamo, ci sono anche, delle paillettes, chiaramente, a beccale, ve le faccio vedere, così, guarda, siamo sempre lì, quindi è fatto, di più, la vedete, è piccolina, è micro, paillette, questa, sono fatti, di più materiali, quindi, anche questa persona, mi ha dato, delle delucidazioni, mi ha detto, no, non lo puoi avere, cioè, sarebbe, teoricamente, giusto, nella teoria, no, però, nella teoria, di un mondo, fantastico, perché, poi, nella pratica, utilizzare, una materia, naturale, per questo, no, non, non è più etico, e non è più sostenibile, lì dipende, cosa vogliamo fare, io, dell'acrilico, per esempio, al 100%, che poi, è il, la discussione, principale, sotto, insieme ai video, ma anche su altri gruppi, vedo che, acrilico, sì, acrilico, no, io, l'acrilico, solitamente, lo, utilizzo, per, vari capi, perché, secondo me, in altri, in altri filati, non è che non può essere fatto, ma, il gioco, non ne vale la candela, ad esempio, cappottini per i cani, ora, se un cane esce, si bagna, o comunque, si sporca, questa è la mia, perché, purtroppo, ho avuto, il cane, tra parentesi, l'atrilli non c'è più, e, quindi, quindi, comunque, vabbè, ho avuto cani, non è questo, il video, per raccontarvi questa cosa, ho avuto cani, se voi mettete un cappottino, la fate andare in giro, lei poi era anche bassina, quindi, rasoterra, e magari, piove, si intacchera, in una maniera, che non ne avete un'idea, tra lo sporco, che c'è sulle nostre strade, cittadine, e tra il fatto, che comunque, si bagna, bisogna avere un qualcosa, che si prende, si lava, e velocemente, si asciuga, ma io non posso stare, a lavare il cappottino, per il cane a mano, stenderlo in piano, cioè, vi immaginate, quanti cappottini, dovrei avere, è una cosa, che non è fattibile, un po', come l'automobile, cioè, noi utilizziamo, l'automobile, che inquina, e voi mi dite, ci sono le auto elettriche, sì, ma le auto elettriche, vengono fatte, funzionano con l'elettricità, l'elettricità, da dove deriva, vedete, sono questioni, molto lunghe, annose, diventa, veramente, impressionante, quindi, diciamo così, cappottini per i cani, per questo motivo, perché sono facili, facile manutenzione, e anche loro, diciamo, che si imbibisce di meno, il tessuto, infatti, poi, se diluviano, chiaramente, io non porto fuori il cane, ma, oppure, c'è il kiwi per i cani, quindi, tessuti tecnici apposta, ma, comunque, se si sporca, io lo lavo, e lo lavo spesso, ne ho due o tre, ma vengono lavati, molto spesso, ecco, oppure, amigurumi, perché, perché amigurumi, soprattutto, se vanno a dei bimbi, i bambini ci giocano, vanno per terra, bimbi piccoli, poi, se magari, se li toccano, se li mettono in bocca, quindi, vanno lavati, lavati spesso, e quindi, ecco che, secondo me, l'acrilico, fa un ottimo lavoro, come tutto ciò, che deve avere, anche una certa resistenza, un portachiavi, in lana, con lo sfregamento, delle chiavi, per come l'ho fatto io, il portachiavi, non so se vi ricordate, il fantasmino, il fiore, è chiaro, che quel portachiavi, nel giro di una settimana, con tutti i dentellini, delle chiavi, che sfregano, sarebbe a pezzettini, quindi, portachiavi, piuttosto, che, accessori, ad esempio, io ho fatto, tantissimi, guantini, guantini, una manina così, guantini, scaldacogli, e cappelli, quando mia figlia, era veramente, molto piccola, perché, quei guantini, quegli scaldacogli, e quei cappelli, giornalmente, venivano, in asilo, o in strada, buttati a terra, e magari, anche, calpestati, quindi, poi, non glieli davo, quando era in asilo, nido, da rimettersi, li lavavo, ma li lavavo, alla buona, alla veloce, avevo bisogno, che si asciugassero, perché le tutine, per i bimbi, quelli proprio neonati, andate a vedere, ups, scusate, terremoto, di cosa sono fatte, quindi, diciamo che, per oggi, vi ho fatto una testa, tanta così, e, non, non, non vado avanti, perché veramente, è un video lunghissimo, ma, era proprio, per introdurvi, alla questione, buttandovi lì, proprio, un sacco, di spunti, per ragionare, e, un sacco, di, domande, a cui, se volete, io risponderò, in vari video, quindi, per oggi, è tutto, se questo video, vi è interessato, mettetemi, un like, e, non dimenticate, di iscrivervi, cliccando qui sotto, iscriviti, e la campanella, e noi ci vediamo, alla prossima, ciao! Grazie. Grazie.